L'organizzatore dell'evento è l'ACI Palermo, in quanto detiene il marchio Targa Florio. Le novità di quest'anno è che il circuito si è trasferito in favorita, che è stato per otto volte teatro della manifestazione creata da Vincenzo Florio e che noi cerchiamo di riproporre, ovviamente in una versione regolaristica. Si ritorna alla favorita perché è stata la favorita teatro di alcune edizioni della vecchia Targa Florio motociclistica. Noi stiamo cercando una formula che possa rilanciarla anche in maniera sportiva, ma abbiamo fatto anche già dei passaggi con la Federazione Motociclistica Italiana e con altri enti che possono rilanciarla da quel punto di vista. Ma ci sembrava giusto, una volta che l'anno scorso abbiamo iniziato questo progetto della Targa Florio motociclistica, riproporla anche quest'anno in versione rievocativa, cominciare a solleticare la passione dei tanti motociclisti che ci chiedono questa manifestazione, peraltro con un parterre di moto molto importanti, moto storiche che è difficile a vedere, in un teatro bellissimo come quello del Parco della Favorita che abbiamo avuto già un paio di mesi fa, modo di sperimentare con la Targa Florio classica e quindi questo connubio tra natura, tra città, tra autoclassiche, si ripete anche quest'anno però con le moto questo weekend. Per cui una iniziativa molto importante che oltre a rappresentare un fatto simbolico della Targa Florio motociclistica, rappresenta una grande opportunità per la città che nei prossimi anni sono certo che attraverso una formula di regolarità, di turistrofi o di qualche altra formula motociclistica potrà ospitare un grande movimento di motociclisti che verranno da tutta Italia e da tutta Europa.